Nel comune di Anghiari sono stati sottoposti a riprofilatura il torrente Sovara in un tratto in località Tavernelle di Anghiari nel quale la sezione di deflusso era parzialmente compromessa visto l'accumulo di sedimenti di fondo e di detriti quindi un intervento che ha permesso anche di salvaguardare le opere presenti ovvero delle difese di sponda a gabbioni e un'opera che è una scogliera realizzata dal consorzio con i fondi del PSR. Un ulteriore intervento di riprofilatura effettuato ad Anghiari ha riguardato il fosso di Poderino siamo sul bacino delle reglie della piana della battaglia di Anghiari anche in questo caso la sezione di deflusso era completamente ostruita è stata effettuata una riprofilatura con una risagomatura delle sponde rendendo di fatto sicura un'area che era spesso oggetto di sovralluvionamenti e inondazioni. Nei prossimi mesi estivi il territorio di Anghiari sarà sottoposto come gli altri territori della Valtiberina a lavorazione ad interventi che riguarderanno taglio e sfalcio della vegetazione e quindi sia tutto il bacino del Sovara che il bacino delle reglie della piana di Anghiari della piana della battaglia saranno sottoposti a numerosi interventi di taglio e sfalcio in vista anche dei mesi autunnali per preservare quindi la sicurezza idraulica del territorio comunale di Anghiari e degli altri comuni della Valtiberina.